Ikea nel panorama mondiale degli operatori commerciali è l'insegna più prestigiosa e riconosciuta a livello mondiale. Averla dentro Portobolare, averla a Reggio Calabria sicuramente è un risultato per noi molto importante. Reggio Calabria è una città che purtroppo sta vivendo un momento di decadentismo molto forte. L'apertura di Ikea a Reggio Calabria può essere d'aiuto perché questa situazione possa essere completamente invertita e cambiata. Certo, naturalmente se la classe politica continua a ragionare così come sta facendo, le speranze si affievoliscono sempre di più. Voglio segnalare una cosa perché io sono uno che come sapete non riesco a tenermi là dentro. Vorrei segnalare l'assenza delle istituzioni locali all'inaugurazione di Ikea. Credo che questo dovrebbe far riflettere molti cittadini di Reggio Calabria e chiedere conto del perché si occupano in modo così frequente delle stupidaggini e invece non sono presenti nelle cose serie che possono cambiare veramente le sorti di Reggio Calabria. Comunque, grazie intanto a tutti i cittadini di Reggio e credo della Calabria intera che verranno a visitare Ikea e il nostro centro commerciale che comunque è la prima attività economica di Reggio Calabria. Siamo veramente contenti finalmente di essere riusciti ad avvicinarci ai nostri consumatori calabresi che effettivamente da tanto tempo ci richiedono di essere un po' più vicini. Questa apertura rappresenta uno step importante all'interno della nostra strategia omnicanale. Di fatto oggi interagire con noi è possibile in tanti modi, dall'app al sito al telefono, però noi crediamo anche molto nel canale fisico che diventa un elemento che si integra all'interno di un'evoluzione del comportamento d'acquisto e quindi qui sarà possibile fare più o meno tutto quello che è possibile fare in un negozio grande, normale, standard e siamo molto contenti di essere riusciti a portare Ikea qui vicino ai calabresi. Si tratta di un format innovativo che si chiama Plan and Order Point. Sono più di 300 metri quadri dedicati all'ispirazione. Troveranno moltissime soluzioni dalla cucina alla camera da letto al soggiorno e sarà possibile di fatto ordinare tutti gli 11.000 articoli del nostro assortimento e come novità rispetto anche ad altre città abbiamo la possibilità di acquistare degli accessori immediatamente. Abbiamo una selezione di accessori che rinnoveremo di volta in volta. E poi quello che credo sia, a parte il nostro assortimento, il punto di forza dell'offerta d'Ikea i nostri esperti, i nostri consulenti che offrono una consulenza customizzata, personalizzata, gratuita che sicuramente fa la differenza per cercare di riuscire a soddisfare i bisogni dei consumatori ma anche se riusciamo a farli sognare un po'. Quindi invitiamo tutti a venivì a trovare. Li invitiamo, è tanto tempo che ci aspettate quindi adesso siamo arrivati per cui non vediamo l'ora di potervi abbracciare e di interagire con voi all'interno di questo nuovo formato qui a Reggio Calabria.